Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! In questo caso invece ho 112 operator, insomma c'è anche quello, qua invece siamo in un apocalisse zombie e useremo le mappe, qua ovviamente ci dice che se ci uniamo alla pagina dello sviluppatore avremo un edificio gratuito. Comunque questo Early Access è molto interessante perché sebbene il prezzo, no perché non sarebbe il caso, praticamente il gioco offre 50 eventi con il sottofondo anche vocale doppiato e 25 edifici e considerate che sono già tanti per un Early Access quindi andando avanti migliorerà sicuramente. Il gioco non è profondissimo però iniziamo una nuova partita e lo iniziamo in Italia, magari facciamo un paesino, adesso io non so dove potremmo fare, non lo so, evidenzia campi giocabili. Allora dobbiamo prendere l'Italia e andare magari in un punto, non lo so, non so se qualcuno di voi abita lì ma qui in queste zone ma non saprei. Io prenderei l'isola se c'è, se è possibile, sul lago di Iseo, un'isoletta in modo da essere abbastanza isolato dal mondo, vediamo se è possibile prendere quest'area qui. Gardone Valtrompia, sì dai, sì, non so se sia quella realmente ma va bene. Questa regione ha solo 346 edifici per un'esperienza almeno 1000, ok, allora prendiamo... No, andiamo sul lago di Garda. Peschiera del Garda. Questa può andare bene? Sì. Eventi del tutorial, eventi della storia, così andiamo a Gardaland a colonizzare. Vabbè, magari spero non mi farsi la partita a questo. Vabbè, questa è una cosa così, però la cosa interessante è che potete poi andare nella zona dove abitate e rendere la vostra reale casa una base e vedere la casa dei vostri amici, dei vostri parenti, magari sottomessa agli zombie e quindi andare a liberarla. Insomma, questo è un gioco basato anche sullo scorrere del giorno, sulla pianificazione. Il mondo come lo conosciamo non esiste più. Quello che chiamiamo il virus della follia apparve del nulla. faceva diventare le persone estremamente violente, aggressive e sfrenate. Poco dopo, gli infetti divennero assettati di sangue. Qua dobbiamo fare attenzione perché attacca di notte se ci vedono in giro. Più simili a vampiri che esseri umani. Presero piede, caos, panico e guerra. Tradutto anche bene, eh. L'abbiamo già approvicchiato, ma... Eh, ok, va bene. Ok, questa è la zona. Vediamo un po'. Via Black Hole. Eh, questa è Gardaland. Va bene, inserite. Abbiamo l'ingresso, però. Vabbè, ci registriamo via Adventure. Casa di prezzemolo. Fantastico. Dai, facciamo alla casa di prezzemolo. Va bene, è la nostra base. Trasmissione in entrata. Sono il capo della prima squadra. Siamo usciti. Il quartiere sembra deserto. Lo visteremo tra gli edifici vicini alla ricerca delle risorse. Ok, cercate cibo. Trovate qualcosa? Ok. Attiva la vista risorse con la B. Vediamo, vedete che abbiamo una vista di tutti gli edifici vicini. Edifici vicini. Seleziona una squadra. Tasto sinistro del mouse. Vista gli edifici. Tasto destro. Qua, 0,4 trovati. Ok. Questo cos'è? Questa è la casa di prezzemolo, realmente. Sarebbe questa. La struttura vista dall'alto è uguale. Ci sono i rami, ci sono i foliame. Per chi di voi conosce il luogo. Allora, seleziona una squadra, che è questa. La mandiamo alla casa qua. Qua vicino, qua davanti. Se io la prima partita le avevo mandati nel mio paese lontani, al di là del fiume, è un casino perché avevo fallito. Ok, qua abbiamo i nostri tizi che stanno facendo. Ho visto gli edifici. Tasto destro del mouse. Ok, 0,4 trovati. Ok, vedete che stanno lavorando. Porta e barattoli raccolte al quartiere generale. Ok, stiamo esplorando un pochino. Ci sono anche le ferrovie del trenino. Ma pensa. Sì, beh, poi non è forse una gran scelta farlo qui, ma vedete che... Ah, ci sono tutti i ristoranti qua. No, per renderlo un pochino più simpatico, insomma. Poi lo potete fare ovviamente dove volete. Il gioco non costa poco, mi domando il motivo. Però è in early access, quindi magari potrebbe anche aumentare nel corso del tempo. Comunque mi sfugge che cos'è questo edificio, perché questa qua è la casa di prezzemolo, chiaramente. Però, e non è questa. Però va bene, dai, l'abbiamo fatta qua. Qua davanti almeno abbiamo già un edificio da esplorare. Vediamo. Via Fantasy Kingdom. Hanno un'arma, hanno il livello che sale, sono in avvistamento. Qua abbiamo il cibo, che poi cibo in scatola, razioni di cibo, sacco di grano e la carne. Qua abbiamo le munizioni, qua abbiamo le armi che possediamo, pistola e fucili di precisione, fucili di assalto e fucili normali a pompa, immagino. Il carburante, i materiali della costruzione, edificio ripulito, costruzione diviso tra legno, metallo, mattoni e utensili. E qua abbiamo i materiali, fertilizzante e kit di pronto soccorso. Ok, sono tornati indietro. Adesso dobbiamo mandare la nostra squadra in un altro edificio. Parlerò a nome degli altri cittadini, cerchiamo di adattare gli edifici nei rifugi adeguati, in modo da non dover passare un'altra notte sotto terra. Ok. Prendiamo questo. Porta i barattoli raccolti al quartiere generale. Ok. No, dobbiamo andare anche qua. Dai, uscite e andate anche lì, dai. Tanto qua vedete la versione di gioco, il primo aprile, sono le 14 di pomeriggio, quindi si può accelerare il tempo. Abbiamo una squadra su sei al momento con queste persone. Joe Peterson, Timothy Ramirez, Judy Miller e Janice Perez. Ok, abbiamo esaminato anche questo. Abbiamo trovato tutto, porta tutto al quartiere generale. Poi adatta gli edifici nei rifugi. Ok, adatta gli edifici nei rifugi per alloggi. Ok, allora. Le casse sono in quartiere generale, dobbiamo pensare a cos'altro cercare. Sarebbe meglio controllare in qualche negozio o magazzino. Indicherò dove andare. Ok. Vediamo un attimo. Possiamo trasformare adatta edificio. E vedete che possiamo dedicare... Beh, la casa di prezzemolo no, dai, non me la sento. Non me la sento di farla così. Allora, questa. Qua abbiamo menù, lavoro, territoriale, menù, costruzione, magazzino, rifugio, qui. Ok, facciamo rifugio anche qua. E poi dobbiamo ravvistare anche i ristoranti o quelle cose lì. Ne dovremmo avere uno qua davanti, sì, con qualche... Trasmissione in entrata. Signore, il sole sta calando, non sappiamo cosa succederà di notte. Possiamo continuare la nostra operazione di avvistamento al buio, ma sarà molto pericoloso. Tornate al QG. Tornate al quartiere generale, in cui i lavoratori torneranno a casa i civili disarmati, non dovrebbero andare in giro dopo il tramonto. Ok. Siamo tutti qua. Sta iniziando la notte. Alle 5, vedete, loro tornano indietro e il parco divertimenti diventa un luogo pessimo dove girare. Un po' come questo posto, il 15 di agosto. Possiamo accelerare il tempo? Ok, dovrebbero iniziare ad andare in giro adesso i non morti, i vampiri, insomma quello che è. Terrificante la notte. Trasmissione in entrata. Eccoli qua. Signore, abbiamo appena visto un gruppo di infetti, potrebbero non sapere ancora la nostra presenza. Nascondetevi. State lontani da loro. Come vi ho detto, ci sono 50 eventi di questo tipo. 25 edifici diversi. E siamo ancora nelle access, quindi potrebbe diventare interessante. Qua vedete che abbiamo questa zona di portata, perché loro possono sparare dalle finestre, possono cecchinare. Comunque. Qua intorno non c'è nessuno. Guarda avvistata. Non so se attaccheranno noi. Eh sì. Ok, abbiamo abbattuto l'ondata. Bisogna fare attenzione anche le munizioni, che non finirle. Ora è avvistata, ma non l'abbiamo. Eccola lì. Ma magari non ci attacca neanche nella mezzanotte. Grazie a loro. Attaccate. No, se ne vanno, se ne vanno. Non gli lasciamo modo di capire che siamo qui. Infatti stanno mandata a tempo normale, diciamo un pochino più. Ok, abbattiamo anche questa. Perché a me nella prima partita l'avevo gestita talmente male che erano entrati. Proprio in casa avevo perso praticamente la partita. Avvistata un'altra orda. L'importante è che non finiscano le munizioni. Se no bisogna muoversi e sviluppare le risorse. Può essere molto interessante tra gli eventi e l'amministrazione delle risorse. Cose che a me piacciono molto. Un'altra vada avvistata. Ma ormai sta diventando giorno, sono le 5. È qua, qua abbiamo qualcosa. Trasmissione in entrata. Questa notte è stata facile. Ma ci saranno sicuramente parecchie infetti da queste parti. Dobbiamo costruire delle difese prima che cali la notte. Costruiamo una torre di guardia. Perfetto. Ok, allora. Si può mettere in pausa. Allora, vediamo. Menù. Raccogli metallo, raccogli mattone, raccogli legno. No. Torre. Torre di metallo, di legno, di legno. La mettiamo, la torre di guardia. Magari la mettiamo qua. Ok. Via. Stanno andando i coloni in questo caso. Mentre la nostra squadra magari la mandiamo qua a prendere del cibo. E magari dopo di che le costruiamo anche un'altra dall'altra parte. Non lo so. Perché qua siamo abbastanza coperti. Però... Non si sa mai. Vediamo. Capo, abbiamo notato del fumo in lontananza. Prima viene da un edificio. Penso potrebbero esserci delle persone là dentro. Suggerisco di andare a controllare. Controlliamo. Prima è un po' lontano, eh. Ragazzi. Un po' lontano. Mi serve del cibo prima. Dovremmo creare un'altra squadra prima di muoverci. Non possiamo essere sicuri di chi troveremo lì. Creiamo una nuova squadra. Ok. Abbiamo scalato praticamente dalle persone, credo. Obiettivi qua. Ok. Abbiamo un'altra squadra. Come si farà ad un'altra squadra? Creiamo una nuova squadra. Squadra 2. Ok. E la mandiamo là. Tanto... Andate. Squadra 2. Andate. E al massimo li facciamo rifugiare lì. Tanto qua la torre la stanno costruendo pian piano. E gli altri invece stanno recuperando. Poi dovremmo lasciarla qui. Le munizioni stanno calando, quindi abbiamo bisogno di ritrovare roba. E qua come sta andando? Ah, hanno già finito. Ho visto. Ho visto anche qua, va. Magari trovate delle armi. È bello che ogni edificio comunque viene preso dalla mappa satellitare. Gli viene creata un'entrata, che è quella. Gli altri intanto. Ok. Ok. Le risorse stanno prendendo cibo in scatola, cibo in scatola, cibo in scatola. Hanno completato. Hanno completato l'edificio e stanno tornando indietro. Ce la facciamo a farne un altro. Questo visci. Vedete che diamo un'occhiata. Qua ci sono antenne, ambulatorio, centro di ricerca, centro meteorologico, il pennone. Abbiamo lettori in varie materiali. Filo spinato, pallizzata di legno, recinto di metallo. Abbiamo fabbrica di utensili, di armi, chimico, produzione di cibo. Diventa molto interessante qua. Molto, molto, molto interessante. Comunque, siamo stati sempre in base da questa parte qui. Non vorrei arrivassero anche dall'altra. Quindi io ci piazzerei un'altra toaletta anche qua. Vediamo che cosa ci serve. 10 di legname. Noi di legname abbiamo materiali, legname 19. Fatene uno anche qua, va. Dai. Via. Intanto stiamo arrivando qua. Ok, building clear. No, fermi, fermi. Ah, stanno portando tutto a casa perché abbiamo trovato del cibo, ma purtroppo non delle armi. Qua abbiamo trovato del fumo. Vediamo cosa succede qua. Capo, abbiamo trovato dei sopravvissuti. Hanno vissuto in condizioni terribili negli ultimi anni. Potremmo portarli alla base, ma ce la faremo a dargli da mangiare? Ma certi sopravvissuti abbiamo trovato da mangiare. Vai venire qui. Dai che sono le 13. Ok, stanno arrivando. E loro intanto cosa stanno facendo? Ah, stanno rovistando. Sì, ma dobbiamo andare, perché questi qua arrivano. Edificio pulito. Ok, tornano già per i fatti loro. Stiamo rovistando anche questa zona qui. Vediamo questa squadra cosa ha trovato. Cavoli, non troviamo armi. Non troviamo niente, niente, niente nel negozio del ristorante. Anche perché in un parco di divertimenti non le trovi le armi. Magari qualcuno ha sicurezza, ma... Sta andando... Ok. No, 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 continuate lì, continuate lì. Per Dio. Finite... Ah, no, finito l'avvistamento. Ok. Tornata la base, dai. Tornata la base. Celeriamo un po' il tempo. Vedete che stanno tornando indietro. Hanno completato anche la costruzione della torre di guardia. Ah, vanno già delle persone armate lì. Ok, sono le 18. È diventata notte. Abbiamo avvistato degli infetti. Il tempo rallenta in automatico. Vedete che c'è gente qua che sta difendendo. È un'ondata un pochino più intensa. Però ci permette di guadagnare tempo. La squadra la possiamo mandare fuori. Io non la rischierei, però... Signora, così notte, vi diciamo che non fette uscire. Preparatevi. E qua non c'è nessuno che sta difendendo. La squadra 1 potrebbe andare a dargli una mano? Vediamo se si può. Guarda eliminata. Perfetto, dai, torniamo su. Ah, perché qua poi possiamo mettere anche archi. Eh, perché facciamo casino. Facciamo casino e il problema è che poi attaccano con una pistola, quindi... Qua non c'è nessuno che sta difendendo. Oh sì. No, due. Due assegnati. Niente, squadretta, andate giù. E difendete. Ok. Tornate. Eh, perché facciamo un casino assoluto. Però vedete che... Ho davvistata. Vedete che stanno attaccando. Sono dentro. No, non sono entrati. Sono stati abbattuti prima. Perché l'area di influenza... Dovrebbe essere... No, dai, sta andando abbastanza bene, dai. Arriviamo la giornata dopo. Con nuovi sopravvissuti. Ok. Risorse esaurite e pistola. Come risorse esaurite e pistola? Bisogna andare a prendere armi, mannaggia. Edificio agricolo. Edificio agricolo. Negozio e ristorante. Ci mancano armi. Capo, molti nostri lavoratori non hanno nulla da fare. Mandiamola a raccogliere risorse. Ok. Ok. Cosa si può fare, quindi? Raccogliete risorse. Allora. Lavoratori... Raccogliete legno. Legno qui. Mamma mia, mi traccia anche gli alberi. Bellissimo. Ok. Lavoratori, raccogliete quello. Mentre la squadra, qui, viene a prendere la roba qua. Perché cibo ne abbiamo. Però... Vorrei dare... Vista, layer. La UI. Spedizione. Ok. Bellino questa. Questa modalità qua per... È la panoramica generale. Ok. Le persone sono queste. Praticamente abbiamo 23 disoccupati. Costruttori. Che non possiamo ancora aumentare perché non abbiamo l'edificio probabilmente. Agricoltori. Guardie. Ok. Ne abbiamo tanti. Infermieri, operari, cuochi, rovistatore. È interessante. Aumentiamo un po' i rovistatori. Ne mettiamo 15. Ne lasciamo meno disoccupati in casa. E vorrei uscire da questa modalità però... Ah no. Ma me li lascia assegnati comunque. Ok. Intanto qua stanno andando a prendere... Hanno già preso. Ok. Casse di munizioni. Non abbiamo armi. Però abbiamo munizioni. Eh bene. Il ristorante. Ok. Accelera un po'. Che... Vediamo se salgono le munizioni. E' umano 9. Però non abbiamo pistole. Bella anche la musica che c'è sotto. Eh, dovremmo spostarci. Dovremmo costruire altri edifici. Vediamo se si può costruire qualcosa. Produzione di cibo. No. Perché? Perché non abbiamo ancora... La roba. Filo spinato. Palizzata di legno. La palizzata come funziona? Ah, me la fa fare così. Bellino. Perché possiamo fare... La palizzata... Da qui. A qui. Bello. Tutti sopravvissuti. L'infezione sta regredendo. C'è... Chi? Sta regredendo. C'è qualcuno? A tutti sopravvissuti. L'infezione sta regredendo. Cambia canale. Capo della stessa trasmissione che abbiamo ricevuto prima. Non si erano ancora più debole. I nostri volki tolki. Non sono abbastanza. Vuoi costruire una grande antenna? Ok. Costruire una grande antenna. Ah, cazzarola. Qua è lontano, eh. Sarà giù. Ah, sì. Va bene. Allora. Invio una squadra per trovare libri tecnici. Bellino. Bellino. Davvero. Perché adesso stanno costruendo le mura. Stiamo un po' fortificando. Il gioco lo trovo intrigantissimo. Veramente molto molto carino. Per quanto magari non arriva a verte di profondità. Ma è in early access. Ed è molto molto più interessante. Anche se 9-1-1 operator, 112 operator, era molto carino. Anche quello per gestire le emergenze in modo efficiente. Però, cavoli, questo qui è molto 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 bello. Io salvo la partita perché è a peschiera. Se c'è qualcuno di quella zona mi faccia sapere, insomma. Fatemi sapere, il gioco lo trovo veramente, provandolo adesso in modo un pochino più approfondito, è davvero carino. Soprattutto intrigante il fatto di dover raggiungere questa zona lontana, magari 5-6 km, quello che è. E mandare qualcuno a cercare i libri tecnici. E tra l'altro qua mi dà anche struttura didattica perché probabilmente è una scuola. E può essere magari la scuola che avete frequentato voi, qualcuno di voi, insomma. Quindi, fatemi sapere. Con questo è tutto. Il gioco non costa poco, ma potrebbe anche meritare, calcolando anche in previsioni futuro. Cioè, se viene aggiornato spesso, viene portato avanti bene. Gli sviluppatori hanno già fatto giochi, non è il primo. Di questo tipo, quindi potrebbe essere interessante. Fatemi sapere, ragazzi, qua sotto nei commenti. E noi ci sentiamo in un prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao!